partiti i cavalli della seconda corsa dall'interno Gabriella cerca subito di prendere posizione ma i più veloci sono iFrame Mr. Diamond con il primo in particolare iFrame con la giuba gialla che si porta subito al comando lungo lo steccato seconda linea completata anche da Robbiano poi ancora Buschalem all'esterno di tutti c'è la giuba bianca di Kipana in terza linea troviamo invece il Moro questo è lo schieramento quando si sono percorsi 400 metri di gara sempre iFrame in vantaggio nei confronti di Mr. Diamond Gabriella ancora vitale allo steccato poi Buschalem con le spalle Robbiano e ancora Kipana con le spalle il Moro metà gara che è andata via così Buschalem che ha messo mezza lunghezza davanti aiFrame e così è scattato il primo parzialone Mr. Diamond che attende gli eventi lungo lo steccato Gabriella che è quella che va più in difficoltà con Robbiano che cerca di ricucire il gap stessa cosa per il Moro e per Kipana gli ultimi 300 metri con iFrame che si è ripreso la leadership ma è una bella sfida con Buschalem che tenta di tornare Mr. Diamond ancora vitale lungo la corda gli altri che non sono più della contesa Buschalem è passato in leggero vantaggio con Mr. Diamond che cerca di rientrare aiFrame che è in calo e il Moro che non viene avanti allora Buschalem che è in vantaggio è attaccato all'interno da Mr. Diamond che è legato allo steccato e allora Buschalem viene a vincere bene nei confronti di Mr. Diamond e daiFrame doppietta per Giuseppe Ercegovic quick double per il Jockey per il training di Silvia Mendole i colori sono quelli della scuderia Collepapa 4,16 la quota di Buschalem al secondo posto Mr. Diamond per il terzo iFrame quindi numericamente l'ordine d'arrivo è 6, 4, 1 l'ordine d'arrivo ufficioso numerico probabile per Buschalem era la vittoria numero 9 in carriera in 60 corse disputate 6 al primo posto doppietta come detto per Giuseppe Ercegovic 4, Mr. Diamond al secondo 1, iFrame al terzo è tutto anche per la seconda 7, 2, iFrame al terzo 3, 2, iFrame al terzo tutti iFrame al terzo